ciao ragazzi buongiorno oggi mi trovo in provincia di lecco in un posto stupendo che come avete visto affaccia sul lago il cliente lo conosco è un cliente abituale però non ci vediamo da un po di tempo quindi sicuramente l'acquario sarà un po sporco non perdiamo altro tempo e iniziamo subito con la manutenzione ecco qui l'acquario come previsto è abbastanza sporco c'è da fare un bel po di lavoro oggi vediamo un pochino anche la parte tecnica adesso che sarà anche questa da rivedere comunque direi di iniziare subito con la pulizia dei vetri in questo caso visto che sono molto sporchi andiamo subito di raschietto con l'aiuto di uno spazzolino pulisco tutte le rocce tutte le superfici che richiedono appunto una pulizia con lo spazzolino come ad esempio gli scarichi e gli angoli del vetro dove è presente il silicone a seguire mi dedico alla pulizia della parte tecnica pulendo tutte le pompe passando poi allo schiumatoio anche la samp successivamente richiederà una bella pulizia qui vediamo tutto il fango presente nel bicchiere lo schiumatoio verrà completamente smontato fino ad arrivare alla girante successivamente passo al cambio d'acqua cambierò circa 60 litri aspirando ovviamente la samp e tutto lo sporco presente anche in acquario infine effetto anche l'analisi dell'acqua in modo tale da poter programmare bene la pompa dosometrica